Napoli dall'Ottocento ad oggi, le opere e lo sviluppo della città di Napoli tra le due guerre e quelle attuali, fino alla costituzione della città metropolitana. È stato questo il tema del convegno tenuto su Santa Maria Lanova, curato dal professor Domenico Orlacchio, che ha visto gli interventi dei docenti Alessandro Castagnaro e Alessandro Alpiaz dell'architetto Roberta Pastore. I relatori hanno trattato le vicende storico-urbanistiche di processi di trasformazione urbana dagli anni 20 ai 40, quale la bonifica del rione Carità e del rinnovamento di fuorigrotta con la costruzione della mossa d'ultremare, passando poi agli eventi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, come la frettolosa ricostruzione di Napoli, gli interventi in città e sul territorio del dopo terremoto, affidati a due commissari straordinari, Fantini per la Regione e Valenzi per il Comune, fino al recente destino di Bagnoli, opera anch'essa commissariata dopo il fallimento della società di trasformazione urbana. È stata esposta altresì la proposta del rammento delle nostre periferie e l'uso del territorio dopo le dismissioni industriali, sulla base di quanto avviene nelle grandi metropoli nazionali ed europee. Il convegno ha messo in luce la necessità di affrontare con sollecitudine le problematiche dell'avvento della città metropolitana di Napoli, non come semplice sostituzione della provincia, ma come iniziativa per fare di Napoli una grande metropoli, secondo l'auspicio non ha ancora avveratosi dei grandi urbanisti partenopei. Un'occasione da non perdere. Io ritengo che questa sia un'occasione da non perdere, perché oggi il passaggio alla grande città comporta un sistema, un nuovo modello di vita. Noi abbiamo a lungo tempo trascurato i paesi periferici. Oggi il sistema più importante è quello di dare a questo un significato di carattere diverso, di una grande metropoli, laddove vengono valorizzate le eccellenze della città principale, ma dove le altre non si sentono poi relegate in abbandono. Quindi sistemi di comunicazioni rapidissimi, possibilità di comunicare anche via telematica e poi lo sistema smart della nuova città che poi rappresenta l'avvenire. Il workshop si inserisce nell'ambito della rassegna Illuminiamo i monumenti dentro e fuori. Il progetto promosso da lente di Piazza Matteotti è articolato in una serie di mostre, proiezioni, convegni, incontri letterari con l'obiettivo di promuovere il patrimonio architettonico ed artistico della città metropolitana e che vede a Santa Maria la Nuova ancora fino al 7 gennaio dei mostre contro luce 1991-2014 e volando sulla megalopoli, Napoli-città metropolitana, visitate di recente dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, accompagnato dai curatori, rispettivamente Mario Laporta e Cherubino Gambardella.